Dai Ale, dai ragazzi, allora situazione allenatore, situazione allenatore vi ho spiegato bene anche prima di Roma-Napoli bassissime probabilità che Fonseca rimanga sulla panchina della Roma, poi abbiamo incrociato la notizia anche con Enrico Camelio e vi posso dire che sono veramente pari quasi allo zero le probabilità che Fonseca rimanga allenatore della Roma per quanto riguarda l'allenatore in entrata, ripeto, Enrico ha le sue notizie, dice che Allegri parla con la Roma che è la prima scelta della Roma e io rimango un po' in mezzo perché poi dall'altra parte, ve l'ho spiegato mi dicono che l'ultimo contatto Roma e Allegri risale a Udinese-Roma per quanto riguarda oggi mi chiedete Sarri, in base a notizie su Sarri ragazzi che vi devo dire, Sarri ha parlato con il Napoli comunque non lo so se ci sono le condizioni di un Sarri-Napoli lui piace la Premier League ma la Roma lo sanno tutti, lui lo fa filtrare dappertutto la Roma non è che gli piace di più, lui crede che a Roma possa fare veramente bene ai giocatori adatti al suo gioco e niente, queste sono le notizie che ho niente di più, perciò non vi posso dire Roma-Sarri, se no vi prenderei in giro vi posso dire che a me personalmente Sarri mi fa impazzire e sarebbe, certo se la Roma mi porta Allegri non è che dico che schifo anzi dico qui e magari veramente vogliono fare cose importanti però Sarri io lo metto al pari di Allegri perché Sarri sarebbe perfetto per i giocatori che abbiamo, sarebbe perfetto per la crescita della Roma sarebbe perfetto per questa piazza dove comunque abbiamo visto sempre bel gioco ma non è un mio calcio Sarri, Sarri cura moltissimo la fase difensiva e per me ragazzi, per me Sarri sarebbe la prima scelta però da qui a dirvi che ho notizie, no perché non le ho vi prenderei in giro, vi posso dire solo che veramente lo sappiamo che Sarri verrebbe a Roma, vi posso dire con certezza che l'ultimo giorno di calcio mercato quando tutti hanno parlato di Allegri, l'incontro Allegri-Pinto a quell'hotel non c'è stato l'incontro Allegri-Pinto, Allegri stava lì per un pranzo di lavoro per problemi sua e Pinto stava là e ha pranzato con Ramadani Ramadani è il procuratore di Sarri, però non vuol dire nulla perché anche il procuratore di Under è il procuratore di altri calciatori importanti Ramadani ne ha tanti, perciò io non vi posso dire con certezza che la Roma sta trattando Sarri quando saprò che la Roma tratterà Sarri, sarò il primo a dirvi la Roma è forte su Sarri, io in questo momento non so dirvi se la Roma è forte su Allegri, è forte su Sarri io ripeto, voi o mi credete o non mi credete io riporto le notizie che so, stamattina vi ho detto del portiere del Genk dove c'è forte il Liverpool e Real Madrid perché mi viene dai miei amici scouting la notizia che il Liverpool è forte su Koulibaly mi viene dai miei amici scouting e parlano con procuratori, gente di mercato ecco perché vi do queste notizie come ieri sera vi ho dato la Juve forte forte su Donnarumma dove starebbe pensando anche con la regia di Mino Raiola di fargli prolungare il contratto di un anno e poi fare uno scambio con Scesni però queste ragazzi, queste sono le mie notizie in possesso e io per adesso sull'allenatore rimango in attesa di notizie e ribadisco che Fonseca ha veramente le possibilità di una permanenza di Fonseca con la Roma è pari allo zero ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram, Facebook dagli alle, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video attivate la campanella e un bel like dagli ragazzi grazie